Ciao e benvenuto a questo secondo video Io lo uso e cerco di creare un suono che mi ricorda a me, il nero Il nero mi ricorda tipo la notte Un po' che non si vede tanto Scuro Che viene da dormire E abbini l'energia che ti da questa parola Abbini sulla chitarra a seconda del ritmo della velocità Consiste proprio nel connettere l'immagine che hai tu di questa parola nero con un accordo Per riuscire poi quando scriverai un testo a collegare quella che è l'emozione L'energia che ti suscita una parola Un testo, una parola A quella che è l'energia espressa nell'accordo Quindi è importante questo Un po' che crei l'emozione, l'emozione vera Il nero si ricorda il sonno, l'oscuro, la sensazione proprio di mistero E quindi stoppo Perché non è ben chiaro Come se fosse giorni Ciascuno non lo vedo E ridai l'emozione, l'energia che a te viene in mente da quella parola Ciao al prossimo video Grazie Grazie